Una scelta non scontata da parte dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, quella di partire, o meglio di ripartire dai tifosi viola l'autentica arma in più, l'anima di questi colori. E dunque è chiaro, l'appello del tecnico, la prima cosa che deve essere ricostruita è la sinergia e il legame con la città e con i fiorentini. E parto dai tifosi perché l'abbiamo visto nel secondo tempo contro il Milan, con l'ingresso della Fiesola a incitare la squadra, la squadra ha reagito in maniera diversa rispetto al primo tempo. Quindi ho riconosciuto una squadra, un ambiente che ha fatto la forza e la fortuna della Fiorentina in passato, anche nel mio primo trascorso. Quindi è quello che mi aspetto, ma è quello che mi aspetto domani, non mi piace fare appelli, insomma io credo che questa squadra abbia bisogno di vicinanza e di affetto. Fiorentina con la rosa al completo e il ritorno dalla squalifica di Giordano Vertù, grazie al ricorso accolto da parte della Corte d'Appello Nazionale e rientro dall'infortunio all'uzigomo di Capitan Pezzeia, presente nella lista dei convocati contro il Parma e pronto a stringere i denti per provare a scendere in campo dal primo minuto. Non lo dico per sensazioni, ma numeri alla mano, siamo la terza miglior squadra per pericolosità e siamo l'ultima per efficienza evidentemente. L'altro dato sconfortante o incredibile, forse più incredibile, l'altro dato incredibile è che la squadra è la migliore nella pericolosità non concessa all'avversaria. Sebbene non ci sarà un vero e proprio esodo di tifosi gigliati, non saranno nemmeno pochi quelli presenti nel settore ospiti una breve tregua dalla protesta contro la propria età per sostenere i ragazzi in questo finale di campionato, un accordo di non belligeranza. Chiamiamolo così aspettando naturalmente il termine della stagione per la definitiva resa dei conti.